Certo la coppia ti protegge il capello della... Allora Giglio Argentè Qui c'è il castello di Tarabona Castello di San Qui c'è Lorenzo Ora qui fecero tappa i Minori E a me? Eh? E a me? A te che ne so E' un quanto storico Adesso fecero tappa qui per caricare altre armi Per andare in Sicilia Allo sbarco Nello spineo Per fare praticamente In Italia Inizio C'è un bel mare no? Abbastanza E' bellissimo Poi da qui in poi c'è praticamente Ovviamente Sì